Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui apriremo due bustine dei My Little Pony di due serie diverse. Una è della serie L'amicizia Magica, mentre l'altra è della serie Cutie Merc Magic. Cominciamo ad aprire la bustina della serie L'amicizia Magica. All'interno abbiamo trovato Sunny Raise, ha gli stessi colori di Fluttershy, giallo e rosa, ma più chiari. E ha dei soli come Cutie Merc e questa qui è la sua fan card. Bellissimo! Ora andiamo invece ad aprire la bustina della serie Cutie Merc Magic. Wow, al suo interno abbiamo trovato niente po' di meno di Rarity. Guardate quanto è bella in tutti i suoi dettagli. Ha sia la criniera che la coda di due colori diversi. E qui c'è la sua carta. Riassumendo, oggi abbiamo trovato Rarity e Sunny Raise. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao!